Basterà la testera sanitaria per fare la spesa a chi è affetto da celiachia e usufruisce dei buoni erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. A Piacenza sono 1076 le persone di cui 739 donne e restanti uomini colpite da questa infiammazione cronica dell'intessino tenue scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. In Regione nel 2018 si è registrato un incremento di casi del 7% rispetto all'anno precedente. Il rapporto tra maschi e femmine è di 1 a 3 e la dieta senza glutine è l'unica terapia disponibile al momento che va seguita con rigore per tutta la vita. A partire dal primo luglio 2019 in Emilia Romagna per i circa 18 mila cittadini affetti da celiachia cambiano dunque le regole per fare la spesa. Da quella data verrà sostituita l'attuale modalità di erogazione dei buoni cartacei con un corrispondente valore mensile che va dai 56 ai 124 euro in formato elettronico. basterà andare in qualsiasi farmacia o negozio convenzionato sul territorio regionale portando con sé la tessera sanitaria e lo specifico codice PIN celiachia. Una semplificazione significativa per gli assistiti che in questo modo non dovranno più recarsi periodicamente presso l'azienda sanitaria per ritirare i buoni cartacei ma potranno fare tutto per via informatica.